amici rossoneri eccoci ritrovati al nostro cosueto video per quanto riguarda le pagelle nella gara tra frosinone e milan giocata di sera vinta 3 a 2 dai rossoneri al benito stirpe grazie alle reti di oliver girum matteo gabbia e luca jovic vittoria arrivata in rimonta stile stessa partita di udine vantaggio rossonero poi pareggio e sorpasso dei giallobluti di francesco e poi nel finale i rossoneri la portano a casa come dicevamo prima grazie alle reti del difensore gabbia e del bomber luca jovic queste sono le pagelle che trovate sul nostro sito acmianinside.com vi ricordo che oltre alle pagelle trovate anche tutte le notizie per quanto riguarda il mondo rossonero dalla prima squadra al campionato primavera alla femminile calcio mercata calcio mercato e tutto quello che riguarda i rossoneri ora vi vado a leggere le pagelle che abbiamo inserito nell'articolo di ieri sera dopo la partita del benito stirpe contro il frosinone partiamo dal portiere magnan 5 sul rigore non ci arriva per pochissimo ma sul gol di mazzitelli compie un errore evidente cominciano ad essere davvero troppo cari mike ma non confidiamo in te calabria 5 e mezzo come spesso capita per il capitano gli avversari meno rinomati rappresentano sofferenza questa volta è a ruì a stuzzicarlo e spesso andargli via dall'ottantaseiesimo intanto florenzi senza voto chiar se avrebbe potuto pagare la frizzantezza e la rapidità di caio george invece usa tutta l'esperienza e la saggezza possedute vincendo il duello col calciatore brasiliano gabbia 7 oltre con una buona prestazione difensiva certifica le buone gare fornite da rientro il prestito al villarreal trovando il secondo gol in rosso nero teo hernandez 5 e mezzo forse un po troppo preoccupato della co presenza di sulle esec da quelle parti spesso viene preso in mezzo e non fornisce il solito appoggio in fase offensiva rendersi 5 e mezzo il giallo meritato preso ad inizio secondo tempo li farà saltare il prossimo match con napoli probabilmente tirare un po il fiato in vista anche di un fembraio impegnativo gli permetterà di caricare un po le pile stasera è apparso stanco e poco incisivo dal 62esimo entrato in campo benasser 6 e mezzo il milan con lui è una cosa senza di lui è un'altra regia possesso sicurezza e saggezza tattica con anche il cross dal quale nasce il definitivo vantaggio quello di luca jovic adri sei un po sconnesso ad inizio partita per dei palloni sanguinosi che fortunatamente non si tramutano in azioni pericolose si riassetta e complice anche l'ingresso di benasser si sgrava del preso della regia facendo legna e gestendo col più leggerezza il possesso palla love to cheek 5 partita di arresto per il centrocampista inglese che dopo un gennaio da protagonista ricordiamo che è stato votato come mvp del mese da parte dei tifosi rossoneri inizia febbraio non il nonne migliore dei modi non riesce a sfruttare la sua fisicità nella sua progressione perdendo contrasti apparentemente facili per lui dal 62 e 62esimo entra in campo h4 5 e mezzo entra per spaccare il match e dare più peso alla manovra offensiva rossonera intercambiandosi spesso la posizione con le au ma non ci riesce purtroppo né ad essere presente in aria né a saltare l'uomo sull'esterno pulisic 6 da lui può sempre nascere qualcosa e l'intelligenza calcistica delle dell'americano è innegabile è sfortunato in un paio di occasioni dove il pallone pronto per essere colpito subisce le reazioni disperate che gli tolgono la possibilità del tiro dall'ottantesimo entra in campo luca jovic voto 7 non tocca tanti palloni pochissimi a dire la verità ma sfrutta la grande l'unico capitato in aria con una girata davvero rapace d'aria di rigore le au 6 e mezzo che febbraio rappresenta un mese di rinascita per il portoghese tornato a fornire bonus quello soprattutto dell'assist per giro per il nel primo gol rossonero è sgasata imponente sembra essere tornato ma non trova ancora il gol arriverà per il portoghese giro 7 eterno olivier che stasera mette a referto ancora una volta gol e assist forse non tirerà più rigori ma tanto l'attaccante francese risponderà sempre presente all'ottantaseiesimo lo sostituisce musa senza voto pioli sei e mezzo sfrutta il pressing alto del frosinone cercando di liberare le au e pulisic per l'uno contro uno sulle fasce ma a volte il palleggio e le transizioni dei giociari sembrano essere davvero troppa roba da concedere si salva grazie ai campi che come a udine permettono di raggiungere la vittoria al milan queste sono le pagelle che trovate vi ricordo sul nostro sito acmianinside.com oltre a questo trovate anche tutte le notizie riguardante il milan prima squadra campionato primavera femminile e notizie di calcio mercato e quant'altro grazie a tutti mettete like a questo video e seguite il canale acmianinside.com su youtube ci trovate anche su instagram facebook twitter e twitch grazie a tutti e forza milano grazie a tutti